Abbiamo neutralizzato un grave fenomeno e assicurato alla giustizia un individuo pericoloso che avrebbe colpito ancora. E' stato definito così da polizie e carabinieri lo scippatore seriale che con un'operazione congiunta delle forze dell'ordine è stato arrestato mercoledì 21 ottobre all'interno della sua abitazione a Centinarola di Fano. Si tratta di Nicola Gaudenzi, un fanese di 40 anni, ritenuto responsabile di sette rapine e furti con strappo. L'uomo, nonostante avesse già un lavoro, cercava di procacciarsi ulteriori soldi per acquistare cocaina ed eroina scippando donne, in particolare anziane, e sempre in sella alla bicicletta. Il quarantenne inoltre agiva in forte stato di astinenza dalla droga e questo lo rendeva violento. In alcuni casi li speronava proprio con uno scooter, uno scooter bianco, un malaguti, e faceva cadere rovinosamente a terra queste anziane donne per poi togliergli, scipparle delle borsette che avevano a tracolla sulla spalla. In alcuni casi lui gli sfilava la borsetta dal cestino delle biciclette stesse, però in ogni caso ne nasceva poi una colluttazione con la donna che opponeva resistenza. Quindi dei sette casi addebitati cinque sono stati qualificati come rapine. Gaudenzi con precedenti penali colpiva tra via Forcolo, via 4 Novembre, via Trave, via Roma, davanti al cimitero di Rosciano e nel quartiere di Sant'Orso. Indossava sempre indumenti a maniche lunghe per coprire i numerosi tatuaggi e un casco a scodella di colore nero. Le forze dell'ordine invitano i cittadini che hanno subito scippi o furti a denunciare l'uomo qualora dovessero riconoscerlo. Riteniamo che abbia colpito anche un numero superiore rispetto ai sette che siamo riusciti a dimostrare, a provare, raccogliendo anche dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Abbiamo ritrovato anche della rifurtiva, le borsette di cui lui poi si liberava successivamente, non lontano dalla sua abitazione. Non siamo riusciti a trovare quei pochi soldi che poi è riuscito a raccimolare. L'autorità giudiziaria di Pesaro ha emesso nei confronti dell'uomo un ordine di custodia cautelare in carcere, quindi una volta rintracciato dagli agenti del commissariato coordinati da Stefano Seretti e dai carabinieri di Fano comandati da Alfonso Falcucci lo hanno arrestato e condotto nel carcere di Villa Fastigi.